Continuano senza soste i controlli svolti dai carabinieri del reparto territoriale di Gela nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. L'azione dei militari, inoltre, è supportata dall'elicottero dei carabinieri di Palermo e dai militari del Regimento Mobile dei Carabinieri di Sicilia, da alcuni giorni nel comune nisseno, per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nella fattispecie, nel corso di un'ottantina di posti di controllo, sono stati verificati 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 8 carte di circolazione e identificate 659 persone. Sono state eseguite inoltre 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari, al termine delle quali sono stati rinvenuti 2 coltelli di igiene nevietato, 3 grammi di hashish e 4 di marijuana. Infine, al termine degli accertamenti, come recita la nota, sono stati segnalati alla prefettura tre soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, due persone all'autorità giudiziaria per guida senza patente, due persone per porto illegale di coltello e infine una persona per guida è stato di ebbrezza alcolica.